Quanto riguarda l'esclusione del Palermo, la probabile esclusione del Palermo dai campionari professionistici? Ma l'ho letta sul giornale questa mattina, uno non può che rimanere dispiaciuto, insomma Palermo è Palermo, quarto la quinta città italiana, quinta, una storia sportiva molto importante, una piazza meravigliosa, carcisticamente parlando, non può che dispiacermi, purtroppo le regole sono regole che vengono rispettate.